Ciao a tutti! Oggi vediamo questo coltello serramanico nuovo modello. Qui vediamo dei coltelli, sono fatti tutti dalla ditta codega di Premana e in particolare questo più piccolo, con una lama da 7 cm, è il modello Lanzo. Come si può vedere la lama è in acciaio inox, quindi non diventa nera, non si rovina, non si ossida. Il manico è in faggio e ha il blocco brevettato dalla codega. Questo blocco permette alla lama di essere sempre o chiusa o aperta, senza il rischio che si apra quando è in tasca o si chiuda mentre la si sta usando. C'è un gancetto che mi blocca, come vedete in questo modo. Questi sono coltelli fatti a mano dalla ditta codega che dal 1920 fa coltelli della tradizione contadina lombarda. Questo, come abbiamo detto, è il modello Lanzo. Il manico è in legno di faggio, mentre la struttura metallica è tutta in acciaio inox. Semplice, comodo da tenere in tasca, con anche il buco nel manico per inserire eventualmente un laccetto in cuoio o in qualsiasi altro materiale. Qua invece vediamo, un pochino più grande, il modello bergamasco, sempre con lo stesso fermo, lo stesso blocco brevettato. Ecco, questi due modelli di coltelli, come dicevo, sono tipici della tradizione contadina lombarda. Si possono trovare sul nostro sito elettronicadidattica.com Oltre a questi abbiamo tanti altri tipi di coltelli, sempre della ditta code da fatti a mano, come vedete, roncole, falcini, coltelli per funghi, e tanti altri coltelli da cucina. Vi ringrazio per l'attenzione, vi aspetto sul nostro sito elettronicadidattica.com e per i nostri prossimi video su questo canale. Ciao a tutti!